Premier Conte è impegnato in un importante vertice in Egitto. Ascoltiamo Conte. Maledetti! 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 Perché l'acqua è quello di cui noi siamo costituiti per oltre il 90%. Maledetti! 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 Possiamo vederla questa immagine. Andiamo proprio sul personale. Eccola. Ama Proferno. Maledetti! E' lui. Sono distribuite lì al santuario dei Cappuccini. Certo. Maledetti!